e cari amici appassionati di Motorsport, ciao a tutti da Beatrice Frangione, ben ritrovati a questa nuova puntata di Mortal News dedicata al magico mondo della Formula 1 dico magico mondo perché durante il fine settimana del weekend dedicato al Gran Premio dell'Arabia Saudita sono state scritte delle belle storie una in particolare secondo me merita di essere raccontata e analizzata un po' più nel profondo, proprio per questo chiamo in causa il mio compagno di team Luca Preti Ciao a tutti Ben trovati Ciao Luca, come stai? Come va? Benissimo Diciamo che la gara di domenica mi ha lasciato molto amaro Sabato, sabato, sabato Vedi, mi ha lasciato proprio molto amaro e qualche gocciolina di dolce, la gara di sabato giusto? Vabbè, ho l'abitudine a dire la domenica si sbagliano tutti è stato un caso diciamo c'è stata una casualità di due occhi però ci ha fatto vedere qualcosina di più rispetto alla prima gara non proprio ina 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 ma ha confermato una cosa bruttissima ma oggi dobbiamo parlare della cosa bellissima abbiamo detto giusto? che è veramente la cosa stupenda di quella gara oggi parliamo di una cosa bellissima perché pensare che un giovanotto di 18 anni sia stato chiamato da un momento all'altro a sostituire un pilota in Ferrari e che abbia portato a termine il suo compito nella migliore nel migliore modo possibile a mio parere perché quel settimo posto che vale ben sei punti mi sembra per la classifica sono valsi secondo me quanto un podio farlo in un circuito complicato come quello di Jedda che lo sappiamo per tanti motivi non è proprio il circuito preferito dai piloti che disputano i gran premi ed è riuscito a essere autore di una gara straordinaria come debutto esordio in Formula 1 al volante di una Ferrari devo dire che è stata un'immagine molto bella ma l'immagine è ancora più bella e lì secondo me si sono visti un po' ai suoi 18 anni di questo giovanotto sto parlando ovviamente di Oliver detto Olli Berman è stato l'abbraccio con il papà io ti chiedo prima di analizzare un po' quello che è stato Olli eccetera io ti voglio chiedere una domanda da papà tu sei papà quindi penso che tu sappia darmi una risposta in merito a questo si è visto più volte inquadrato questo papà terrorizzato era tesissimo era molto agitato molto emozionato poi finalmente con la fine della gara il suo volto era finalmente disteso ed è riuscito a gioire ed essere sereno nell'abbracciare il proprio figlio ma che cosa può provare secondo te un papà nel vedere il proprio ragazzo arrivare tra i grandi vivere un sogno ad occhi aperti così e farlo bene allora lui secondo me è riuscito a controllarsi perché sono inglesi e gli inglesi hanno questa capacità di non è autocontrollo ma di tenere un po' più nascosti i propri sentimenti ma io penso che il cuore gli stesse scoppiando e mi sono emozionato io che non sono lui e non sono il suo papà quindi immagino la sua gioia e lo ha dimostrato quando girando si ha salutato i meccanici aveva il presidente della Ferrari sapeva che era dietro di lui ma l'ha salutato per ultimo l'ha abbracciato dandogli delle pacche sulla spalla come se fosse uno che passava di lì ma credo che sia sicuramente l'emozione che ripaga di tutti i sacrifici che avrà fatto nella sua vita poi non conosco benissimo la loro storia poiché ormai sono quelli ricchi con possibilità economiche che quindi è stato un gioco tipo stroll ma anche se fosse stato così è non lo so veramente una cosa spettacolare che non riesco a descrivere torno a dire io mi sono sentito papà perché inquadravano quasi più lui del figlio e vedevi proprio quelle emozioni che tu vivi io nel mio piccolo mia figlia 13 anni gioca a pallavolo io vivo quelle emozioni quando vedo un bel colpo di mia figlia anche se siamo a dei livelli molto bassi scusa l'off topiche ma che ruolo ha tua figlia a pallavolo io ho giocato tanti anni per quello lei anch'io tantissimi anni infatti è anche per quello che c'è l'emozione è la seconda passione dopo il motorsport non hanno ancora ruolo sono un under 13 quindi il primo anno della squadra girano girano insieme poi per chi gioca abbiamo l'allenatrice che fa un po' più avanti quindi fanno l'entrata da dietro attaccano a tre anche se non attaccano cioè per noi il colpo bello è il palleggio che va di là hai capito io mi emoziono per questo ho la battuta che fa punto è questo il bello perché comunque si sa tutto quello che c'è dietro a determinati percorsi e secondo me vedere che il proprio figlio è riuscito a cogliere un'occasione e farlo al meglio in una circostanza decisamente complicata deve essere una grandissima soddisfazione pensa che questo ragazzo alla fine del Gran Premio ha scambiato qualche chiacchiera con qualche giornalista tra cui c'era anche Roberto Tinker infatti è proprio di Roberto questo aneddoto e Oliver gli ha detto ma guarda mi ha fatto così strano che io ho sempre guardato il Gran Premio io ho sempre visto mi sono mai perso un Gran Premio e ho realizzato che per la prima volta questo non l'ho guardato in televisione l'ho fatto l'ho fatto cioè è proprio ha una tenerezza pazzesca tra l'altro vabbè lui lo sappiamo è giovanissimo lui tra l'altro ha lasciato un fine settimana di Formula 2 dove aveva conquistato anche una pole position mi pare quindi poteva anche fare bene ovviamente non si può correre due due campionati quindi ovviamente cosa fai rinuncia alla chiamata della serie A no direi proprio di no e lui tra l'altro ha come tanti altri piloti nella storia della Formula 1 sai alcuni si sono contraddistinti tanto per essere molto superstiziosi in 74 anni di storia della Formula 1 veramente ce ne sono tantissimi che hanno sempre avuto delle stesse come si dice degli stessi riti delle stesse manie chi per esempio entrava sempre dallo stesso lato della macchina chi si portava Santini a destra manca chi aveva degli amuleti particolari chi faceva determinate cose uguali prima di un gran premio e bene Olli ha detto che lui nel suo portafoglio tiene sempre con sé un sixpence quindi un mezzo scellino diciamo una monetina la tiene per lui ha un valore inimmaginabile io ci tengo veramente tantissimo per me è il mio porta fortuna numero uno e deve stare sempre nel mio portafoglio non controllo sempre che sia nel mio portafoglio però per me ha veramente un valore inestimabile gli hanno fatto leggere troppo i cartoni animati di Walt Disney zio Paperone cosa aveva il suo cento lui uguale spera di diventare aveva un nome particolare la moneta di Paperone adesso non mi ricordo aiutateci non me lo ricordo sì il cento è l'unica aveva un nome veramente speciale però sì che era la prima che aveva guadagnato lui invece spero conservi la gomma con la prima gara perché a parte tutto questo lui è veramente carinissimo un bel pilota non vorrei dire un sinner del volante ma la sensazione è più o meno quella sai che tanti hanno commentato proprio con questa tua stessa frase giuro non l'avevo sentito un sinner a proposito di sinner ti dico anche questa che sinner è seguito da un medico da un dottore che nel mondo dello sport è molto conosciuto si chiama Riccardo Ceccarelli ed è il grande capo di Formula Medicine e proprio dopo il Gran Premio di Jedda quanti aneddoti che ti sto dando oggi dopo il Gran Premio di Jedda si ne era parlato con il dottor Ceccarelli e gli ha detto quanto fosse rimasto stupito dal talento di questo giovane ragazzo ora noi ovviamente se ne sta parlando tanto in questi giorni c'è chi dice che forse è ingiusto perché forse lo si può ma perché bisogna non parlare di un qualcosa che è stato reale e che è oggettivo cioè ha dimostrato veramente perché tanti pensano che queste Formula 1 Luca siano facili da guidare non ci siano tanti problemi ma sbagliate tutto voi che lo pensate no e lo ha dimostrato che un diciottenne in forma come lui ripeto Polman in Formula 2 come hai già detto anche tu quindi un ragazzo che fa una preparazione specifica lavora in un academy e ne parlo subito dopo perché io e quello che è la cosa che mi ha notato di più al termine della gara aveva dolori al collo avevano già provato a sistemarmelo prima della gara per farlo sforzare di meno perché comunque lo sforzo fisico che ti richiede la guida di quell'auto che non è girare il volante ma è resistere alla forza G anche a un ragazzo iper allenato e giovanissimo come lui ha dato problemi perché non ha la preparazione specifica e qui arriva a quello che per me veramente è stato il bello di quello lui è il personaggio ma è tutto quello che ci sta dietro uno la macchina che è una macchina finalmente gestibile anche ad un ragazzo che ci arriva per la prima volta e cioè che corrisponde molto al simulatore quindi lui ha fatto tanto simulatore ci monta su ritrova più o meno le stesse sensazioni quindi è un progetto nato bene quello della Ferrari due facile da sistemare cioè tu alle due ti dicono monta su quella macchina che ha gestito Sainz per le prime due sessioni di prova vai su e cominci già a girare come gli altri fai tre giri torni fuori cavi un secondo al giro vuol dire che è facilissima da mettere a posto non vuol dire che è la miglior macchina dell'otto ma che hanno raggiunto uno dei tanti obiettivi che si era prefissa la Ferrari forse è anche l'unica in questo momento in Formula 1 a quel livello perché probabilmente non lo è così neanche la Red Bull anche se hanno ancora un livello oltre tre vorrei metterci gli uomini dell'Academy perché questo è un prodotto della carina tu puoi essere un bravo ragazzo finché vuoi puoi avere del talento finché vuoi ma arrivare a fare una gara del genere vuol dire che chi ti ha portato lì ti ha saputo crescere nel migliore dei modi e te lo dico perché anche adesso ti do un altro aneddoto è un argomento di attualità anche per noi come sai lunedì sera ero con Enrico a Roma al Sportrate Awards bellissima manifestazione grazie per l'invito ed era bellissimo vedere tutti questi giovani e tutti che ringraziavano le famiglie ma soprattutto gli allenatori che li avevano portati lì e vorrei citarne uno per tutti un po' c'è un mezzo interesse perché è una dello staff che lavora anche con mio fratello perché lui è il secondo allenatore dell'Under 20 della nazionale maschile e l'anno scorso hanno vinto gli europei con l'Under 17 e ho conosciuto la loro team manager una persona stupenda Monica scusa ma non ricordo il cognome vi dico il nome ma la team manager dell'Under 17 e parlando della loro esperienza mi ha detto una cosa bellissima ci confrontavamo sull'esperienza e gli diceva guarda la cosa che è più gratificante non è venire su questi palchi ma vedere e lavorare con i giovani e costruirli ma non insegnarli a fare le call aiutarli a crescere e a sviluppare le loro capacità ed è quello che l'Academy sta facendo perché Berman non dimentichiamolo è un prodotto dell'Academy quindi ha trovato delle persone che purtroppo non sono state citate in questi giorni se non in qualche trasmissione come gruppo ma che secondo me sono i veri vincitori di quell'esordio perché ripeto lui può essere bravo può essere talentuoso può essere quello che vuoi ma quello è il frutto di un lavoro di anni perché Berman quanti sono? 4? 3-4 anni 5 anni che è in Academy e quindi un progetto è anche giovanissimo quindi un progetto fantastico sul quale io investirei tantissimo perché se i risultati sono questi chissà che prima o poi non troviamo anche un italiano che ritorni in Formula 1 lo speriamo uno ce l'abbiamo non è non è dell'Accademy Ferrari ma vediamo perché anche lì la situazione poverino se la sta vivendo un po' male ma io gli auguro tanto ad Antonelli di fare comunque una bella stagione che sta iniziando decisamente in salita amici voi che cosa ne pensate di questo ragazzo di questo giovanotto che ha debuttato in Formula 1 con la Ferrari in Arabia Saudita dovrebbe meritare un posto il prossimo anno o in futuro proprio in Ferrari scrivetecelo qui sotto nei commenti se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale attivando la famosissima campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre prossime uscite e io e il caro Luca Preti vi diamo appuntamento al prossimo video di Motor News ciao Luca a domani ciao ciao